Ciao ragazzi in questo video vedremo dei lavori di carrozzeria e dei lavori di meccanica vi faccio vedere subito innanzitutto vediamo questi cerchi qui a 10 razze parallele per il ciao monterò delle gomme 2 1 quarto per 17 sono i cerchi a 10 razze grimeca quelli originali dopo un sondaggio fatto fra amici conoscenti abbiamo visto che il nero lucido forse è il colore più appropriato ragazzi sono un po' sporchi perché li ho maneggiati adesso sono venuti bene dai sono sporchi perché poi i lavori vanno avanti comunque nero lucido ragazzi nero lucido perché il ciao prototipo è bianco e vi faccio vedere anche cosa ho fatto a questi cerchi tipo il prodotto dato il fondo questi sono stati sabbiati purtroppo la sabbiatura era grossolana si erano formati abbastanza crateri e quindi li ho verniciati io perché ero incerto sul colore e non li ho fatti a polvere sarebbe stato consigliabile però a polvere non si prendono il gusto di stuccare di rifinire dei solchi che ci sono degli spacchi comunque vi faccio vedere i prodotti usati come fondo è stato usato questo qua della sprint epossidico un fondo 2 a 1 due parti di prodotto una parte di catalizzatore e poi c'è la percentuale di diluente che si può cambiare vedete questo qua sarebbe il diluente dallo 0 al 30% a secondo di quello che dovete fare perché la prima mano magari la fate leggermente più grassa per poi andare a diluire un po' di più insomma quelle poi sono cose che ognuno sa quando vernice e questo è il diluente epossidico questo è il prodotto poi il nero è stato dato un nero vi faccio vedere un acrilico bicomponente RAL 9005 ecco è nero lucido diretto ecco qua un nero come un altro e questi sono i colori dei cerchi poi ho fatto anche il piattello ci sono i puristi che disdegnano questa cosa qui il piattello nero però lo volevo fare nero perché mi piaceva di più e le ganashe originali mi è rimasto un po' d'arancio nella pistola adesso vi faccio vedere cosa ho fatto di d'arancio ho fatto anche le ganashe così in una spruzzatina veloce coprendo la parte d'attrito poi gli ho fatto degli spacchetti alla parte d'attrito ho sgrattato la parte bruciacchiata perché sono quelle che c'erano mentre i dettagli li ho fatti in color alluminio questi sono stati fatti a bomboletta perché comunque erano zincati gli ho dato giusto una sbombolettata anche se non va tanto bene però essendo mio non devo dare a terze persone quindi lo faccio come più mi aggrada questo è il piattello ragazzi chi c'ha da dire me lo dica tranquillamente non ci sono problemi mettiamolo qua ah giustamente il banco del poveraccio c'era un po' di arancio che era rimasto nella bomboletta nella pistola e quindi mi sono fatto questi profili così senza mascherare così ho spruzzato alla crudele ok questa è una ganascia posteriore piaggio sempre c'era un po' di vernice nella pistola true truck una bella spruzzatina giustamente non sul materiale di attrito questo anche è stato pulito con diluente nitro vedete questa è una ganascia originale piaggio guardate il metallo le cose interne diciamo le fibre qui è stato lucidato dove c'è la cam che lavora ragazzi non dite niente però così va c'era un po' di vernice e l'ho fatta qua perché c'avevo la vernice? vi faccio vedere subito la vernice è stata comprata dal mio amico Luca per fare le molle del super bravo che avete visto già nei video vi metto il link poi sotto perché adesso ha degli ammortizzatori con molle cromate siccome quello che ha restaurato il motorino gli diede anche i suoi ammortizzatori li abbiamo fatti dello stesso colore dei cerchi questo colore è ve lo faccio vedere subito eccolo qua RAL 2001 sempre un acrilico bicomponente lucido diretto è un arancio rossastro viene chiamato così se andate a vedere la cartella di RAL vi dice arancio rossastro questo è il risultato ragazzi ed infine come carrozzeria mi sono ripristinato questi ammortizzatori ceriani anni 80 montati su un beta che il mio amico Antonio Cracra demolì e gli ammortizzatori erano tutti arrugginiti sia nel corpo nero sia la molla che era cromata però aveva molta ruggine niente l'ho smerigliata per bene la molla non l'ho sabbiata sarebbe stato preferibile perché è facilmente staccabile la vernice dalla cromatura come dall'acciaio inox sempre fondo epossidico e poi sempre quella vernice che vi ho fatto vedere poco anzi lo stelo è perfetto c'è una bella idraulica e quindi ragazzi li ho ripristinati perché vabbè adesso ci sono i gommotti usurati e le viti sono state fatte con lo zinco spray però mi riservo di sostituirle sia i gommotti la boccola sia le viti questi sono i ceriani sono molto buoni e poi dentro gli ho messo quest'olio qui un 20V della Motul è un ottimo olio l'ho usato nelle forcelle di moto è un ottimo olio pesante un 20V ma va benissimo li ho provati così a mano e ci hanno un'ottima resistenza perché purtroppo non vi ho fatto vedere ma ci hanno una bella idraulica dentro non sono il classico ammortizzatore a molla così va l'olio quanto li ho messo non lo so perché ho fatto delle prove e li ho fatti uguali alla fine però a occhio così non ho misurato questi me li ha regalati l'amico ragazzi nel frattempo è arrivato un amico mi ha portato questo un cilindro piaggio marchiato BZ non lo so è uno dei primi comunque c'è poca carne di travasi come l'ultimo cilindro che vi ho fatto vedere quello che ho modificato io praticamente vedete lo scarico tutto pieno di incrostazioni insomma è un bel fermacarte per adesso però mettiamo in archivio non si sa mai un domani si può rettificare tranquillamente e portare a nuovo questo cilindro è sempre buono mettiamo in archivio però merito all'amico Antonio Cracra che ho nominato prima vediamo il suo cilindro nel frattempo che abbiamo visto in un altro video vedete ho tolto tutte le bave da dentro senza toccare i travasi tutte le bave andate a vedere il cilindro prima com'era e adesso e anche dallo scarico vedete ragazzi ecco qua questi sono gli unici interventi che ho fatto a questo cilindro e adesso misureremo le fasi prima di misurare le fasi vi volevo far vedere qua la sede della valvola la proprio la sede dove va imbattuta il cono della valvola vedete è a 90 gradi è piatta la sede quindi ecco perché si deve battere la valvola perché la valvola ha questa situazione qui questa conicità quindi purtroppo per farla per adattarla la sede bisogna batterla qui e poi in seguito gli darò una passata di pasta smeriglio poi un'altra cosa che ho notato se vedete i quattro prigionieri del Big Debs sono diversi sono due più lunghi questi qua uno e due e la filettatura è diversa sotto più grossa e due più corti che hanno questa lineetta qua la lineetta va sopra verso la testata perché c'è la parte più lunga della filettatura la parte più corta va nel carter però ho notato che avvitando questi ultimi due dalla parte che va alla testata provando a filettare qua andavano bene andavano bella la filettatura non andava forte mentre in questa posizione che è quella finale la filettatura andava più forte cioè era più leggermente più grossa nonostante avesse la stessa filettatura nominale insomma stesso passo e stessi millimetri M6 e ho passato una pulizia di filettatura a questi dentro in modo da non sforzare l'alluminio del carter e li ho fissati classico dato e contro dato va bene adesso mi monto il cilindro vedete ho già predisposto il motore e vedremo le fasi finalmente mettiamo il cilindro inoltre inoltre qui come vedete il big depth mi stavo dimenticando è più largo vedete questa zona qui del prigioniere è più larga perché un po' di filettatura di questi prigionieri qua rimane fuori rimane fuori dal dalla parte femmina insomma vediamo un attimo si vede ok quindi mettiamo il cilindro vanno serrati i prigionieri vanno belli serrati non c'è l'asco come negli altri tipi di cilindri vanno precisi perfetto il cilindro è stato inserito adesso me lo blocco un attimino così metto due rondelle di rame per non segnare il piano del cilindro due rondelle in ferro e due bussole mi devo fare delle boccole appositamente per qui per questo lavoro qui ok ok allora adesso metto a filo il pistone con lo scarico questo è a zero regoliamolo leggermente proprio con lo filo di ferro perfetto perfetto facciamo fare un giro apriamo e chiudiamo lo scarico eccolo qua ragazzi ci abbiamo 184 di scarico 184 vediamo travasi allora l'ho posizionato l'ho posizionato mettiamo a zero qui perfetto 118 118 ragazzi fronte scarico fronte scarico posizionato a zero di nuovo il goniometro pareggiato il tutto vediamo facciamo l'apertura e chiusura vediamo la fase 114 114 114 rimorare della favola allora motore mp1 carter lamelle bipetalo albero gli asili che abbiamo visto nell'altro video cuscinetti c3 tolleranza c3 skf accensione elettronica standard carburatore 19 cilindro ripulito dalle bave e questi sono i dati del cilindro alcuni dati insomma travasi 118 fronte scarico 114 scarico 184 e il cordale 35,8 mm ovvero il 76,3% abbiamo poi un differenziale di 66 gradi quindi ragazzi con questi dati il motore verrà chiuso va bene non verrà toccato il cilindro e abbiamo finito e abbiamo visto altri lavori ragazzi carrozzeria i cerchi e i dettagli gli ammortizzatori ciliane recuperati e poi abbiamo visto il motore di Antonio l'amico cracra le fasi del big depth e le lavorazioni che ho fatto al cilindro cioè praticamente solo una pulizia nulla di che non è stato cambiato niente va bene vi faccio vedere i prossimi video gli aggiornamenti ragazzi se vi piace mettete like iscrivetevi alla prossima e aceto ciao a tutti